Musica 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 Hola, benvenuto in questo nuovo video Oggi siamo qui col piccolo Riccardo Riccardo E faremo un video un po' Particolare In pratica abbiamo qui Un po' di rossetti liquidi Giusto due o tre rossetti Giusto due o tre rossi Perché appunto voleva fare la challenge Metteremo quindi alla prova e vedremo baciandoci Quale rimarrà sulle mie labbra E quale invece si stamperà su tutta la sua faccia Ricordiamo sempre meglio non metterlo Eh, meglio non metterlo Però Partiamo subito dalla prima tinta Che è quella che sto indossando Ovvero questa qua di Maybelline La numero 50 È una delle mie preferite Quindi se mi derude questa Chiamiamo Maybelline Eh, esatto Maybelline cambia formulazione Perché non va bene Non va bene Ok, parto col primo Via Va A me sembra abbastanza bene Cioè Se c'è qualcosina però Cioè, ci sono piccoli residui Tipo, rimango dei puntini Però comunque non è che Quindi però promossa Diamo un voto da 1 a 10 8 8 Sì dai, diciamo 8 E comunque adesso Andremo a pulire Vediamo quanto rosso in effetti c'è Nella sua boccuccia No, vabbè È pulitissimo No, è solo per appena Proprio Questa devo dire che è promossa Ma stop adesso Cioè, non va neanche via Mentre la tolgo Quindi immaginate Questa qua è tipo La mia servietta preferita Quelle di Wicon Che rimuovono tutto Non va via Quindi veramente Ok, dopo mille anni Tolta Ok, fatta la prima Ora, fai vedere bene Vabbè, tanto non si capisce Questa mi ispira Questa di Jeffrey, no? Bravo Questa qua Jeffrey diceva Che era a prova di Ah sì Prova di Non si dice Vediamo Vediamo bene No, questo l'ho tanto bene È voluto anche la prova di Di cose sconce Però io Tu ce l'hai ancora Io ce l'ho abbastanza Messo bene Tranne qui Sì, che sei un po' sfumato Però lui È un po' sporchino Cioè, al momento Che schifo Che schifo Mi fa morire perché Che magio Ma schifo Cos'hanno truccato Dai, toglie Dov'è il trucco Dov'è? Ma sono troppo bagnate Quelle suoi Ma vedete Sì, sì, vedi Dai Questa è un po' sporca Pena appena Quindi Oggi la Jeffrey diamo Cinque No, dai Comunque Eh, ma a te Ma vediamo Vediamo entrambi Io do cinque Tu dagli quanto vuoi Io gli do Sì, dai Sei e mezzo Perché comunque Cioè, baci a stampo Riuscite a darle A vostro ragazzo il problema E se fate un bacio un po' più Però Ma sono ancora sporco Cioè, non è promossa al 100% Però un pochino sì Tolta una Ne mettiamo un'altra Andiamo di Anastasia Beverly Hills Olè E questo è complicato E questo è complicato È Katnip Liquid Lipstick Non c'è scritto nient'altro Sì, si chiama Katnip Questo colore è strabello Però la tinta in sé Non mi piaceva perché si sgretolava Vietemi se voi vi trovate bene Con questa Anastasia Beverly Hills Perché I don't know Si sta già sgretolando L'ho appena messa Ok Via Allora Dov'è questa mattina Cioè, praticamente Ti do un bacio E poi devo andare in giro così Ma non è pulito Della parte che non hai fatto prima Sì Qua Ma Vittorio Ma guarda Questa È questa Questa Comunque Metà salvietta È un po' sporco Sì, è sporco Si, si vedeva anche dal video E comunque C'è Ce l'è sui denti Sì E anche sul fondotinta No, nel senso che Proprio si sgretola E perde pezzi Questo Quindi proprio È marcia Boh, non mi piace Non la ricomprerei proprio Questa Anastasia Ma l'hai pure comprata Sì A questa quindi Che voto dai? Come prima Cinque Cioè, vado Dappertutto Cioè, anch'io T'ho cinque a questa Siamo d'accordo Anche meno Perché non la ricomprerei Quindi Direi anche un due Eh? Non ho niente Non cambio salvietta Ok No, non ce la faccio Due settimane che è malata Cioè Ora andiamo a mettere Fire Kiss di Clio Makeup Cioè, nel senso no Andiamo a testare Fire Kiss di Clio Makeup Ciao Clio E vedremo se resiste Questo colore comunque È bellissimo Super rosso Ti piace? Carino 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 Bene Mi sembra asciutto Quindi possiamo iniziare Latto A testare Latto Eh, pensavo peggio Sì, guarda te Cosa hai messa Però, sapete che pensavo peggio? Beh, però tu ce l'hai Fino sotto a Nardo Quindi a questa Quanto gli dai? È bella in sé Il colore Ma Sì, sento me la rombaccia Dopo me lo trovo Ovunque Flash Quindi direi Clio mi dispiace Ma è un 5 Beh, anche come gli altri Questo è peggio Questo è peggio, dici? Io gli do 3 Dai, gli do 4 Però mi dispiace Perché Clio mi sta simpatica Cosa c'è da Giuseppe All'ultra la tinta Lica Clio Ma sei scemo Clio è un 4 È un 4 Ok, dai Ok Ok, siamo pronti Per una nuova tinta labbra Vabbè, prendiamo quella che usa Oh, calma Cioè, madonna Fai vedere Prendiamo quella che usa spesso, no? Dov'è, chi è? Dov'è, questo? Dov'è, quello di Mulac? No pain, no gain Questo mi piace No pain, no gain Mi piace No pain, no gain È un rossetto liquido opaco 13 Balla Andiamo a metterlo Ok, ready for Mulac Ah, vero Se ho dimenticato cosa dobbiamo fare Tutto tranquillo Ok Stupido Che dici? Ti è venuto Ma secondo me è perché comunque sono rossi È difficile che non si Non si trasmettano un po' Se sei rimasto male? No, va bene Ops, mi stavo già pulendo Comunque Mi è passato un po' qui Però lui, vedete qua Non è poco Quattro come a Clio Sì? Sì, guarda quanto è Cioè, troppo Troppo, troppo Ok, ora mettiamo una prova Rumors di Nabla Via con il bacio Com'è? Tutto la persona a posto C'è un po' sopra ma Vuol dire che è resistito questo? No, questo è promosso, dai È promosso? Nabla Nabla Sì, diciamo che Sì, vabbè, ok Sì, vorrei sistemarmi un attimo Però Non male Non male Non male La classifica Allora No, bene Io non lo metterò qua No Sì No, io qua Ok, va A sto giro proviamo Lady Balls di Too Faced Ovviamente, visto come l'ho messo bene Perché l'ho messo io Cioè, l'avete visto? Il prossimo lo mette lui Vediamo cosa fa Comunque dietro questo C'è una storia molto divertente E la Martina lo sa Io non lo so È vero Martina? No Niente Siamo pronti a provarlo Ciao E tu guarda dove ce l'hai Dai Niente Diciamo che questo è un no Guardate lui Aspetta Cioè, tipo Io non gli do un voto a questo Perché non supera lo zero Oh mio Dio Ti mandiamo in giro con questo Dai un bacio Esatto No, è questo il discorso della Martina Che eravamo in discoteca Lei si è strabaciata con uno E diciamo che no Il sole era proprio così Tutto intorno Cioè, questo qua per baciarsi No Non me lo consiglio La single Questa è perfetta La zitella La single Se vuoi tipo non farti baciare Eccetera Questo è il colore Gli dici no Io ho indossato tu face Esatto Non puoi Togliamo e mi mette lui Il prossimo rossetto Eh certo Parti Parti Eh no Vabbè devo dire che metto Sephora Tinta numero 18 Rossetto liquido prego Rossetto liquido 18 Sephora 18 Aiuto Ah voi che dite Sicuramente l'ha messa male Dell'altra volta Però Sicuramente Vabbè ma non è che posso Non posso uscirci Per me sei troppo esagerata Fateci sapere nei commenti E votate per me Via Col bacio Aspettiamo un attimo Che si asciuglia Ah ok Eh tu subito bacio bacio Come vuoi Erano in attesa Il nostro bacio In attesa È vero Ogni volta che facciamo una lada Non mi ho baciato Un video dove ti bacio Come basta È asciutta 3 2 1 Via Dove dire che prova un buon sapore questo Un buon sapore Ma dai Un buon sapore Ma se preferire qui Non lo so Anche a me è qua Il bacio Il bacio Il bacio La barba Tu cosa fai Il bacio La barba Forse perché le labbra grandi Quindi vanno fino E però si vede Cioè a me si vede Comunque notiamo il fatto Che io non è messa così male Questa tinta Labbra Insomma Non dovevi fare Comunque Non dovevi fare così Che si vede Assolutamente che era fatta E poi Quella È la problema Comunque questa tinta cosa gli dai? 5 Perché guarda dove mi è arrivata Cioè va bene tutta Allora visto che mi hanno provato a mettere la tinta Adesso ha detto che Secondo lui io vado bene a metterle perché me le metto da sole Perfetto Abbiamo le ultime tre tinte no? Questa qui te la metterai tu Ma mi ha trovato una più complicata quindi No Sistro Lui si metterà questa qua da sola E proveremo a farla incontrare Vediamo Come la metti No ma è troppo geogrosa Non sono tra curiosa di vedere Prego Mi serve lo specchietto Prego prego Ma questo è straliquido Mi l'hai dato apposta Sono tutti così No ma dai Non ce la faccio partire Aspetta Non sei bravo dai Lui picchietto Perché Che mi fa strisciare Come le vecchiette Questo da dio Ti piace? Vuoi farlo a zoom? Guarda la direzione che facciamo la zoom C'erano più Comunque voglio dire che ripeto Sei soddisfatto Ma come camera mi ha fatto questo presento? Amici che guardate questo video I miei veri amici Guardate Non pensate che a me che hanno fatto I miei veri amici Sì niente Sì niente Sì niente Sì niente Spero che non vedano i colleghi a lavoro Sì niente Dai facciamo un bello zoom Chiama Doll di Kylie Cosmetics Ecco come al solito Guarda vi ripeto Che lei deve mettermi sempre in difficoltà Come l'ultima volta Mi ha riempito Questa volta Che ha dato la tinta Più schifosa La tinta Si sbriciola Più schifosa che aveva Comunque l'hai messo malissimo Per mettermi in difficoltà Non è vero Ti piace così? No Super fresh No Via è piutta? Aspetta un gruppo Aspettiamo Che se ci Mi chiamo a Giacchino Quello Vediamo Chi vince Chi vince cosa fa? Fa un massaggio stasera all'altro Ah va bene dai Uno Due Tre Via Ma tu non vai perché hai le unghie Rimbroglia No Preso Ma il massaggio che mi farei stasera Vero? Vero? Tre volte Se hai testimoni Quindi se non me lo fa Tu bello Ti uccido 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 Ok Diciamo che è giunto il momento Ok Ma mi fa schifo Perché perde pezzi Questa Cioè già si vede un sacco Che è secchissima Ti uccido Ti uccido Volevo fare tutte le marche Non voglio baciarti Ma invece devi Nel video E rientra la telecamera Rientra Rientro Mi uccido Ma che brutta è la sensazione Ma a parte che tu non c'hai quasi Hai qualche pezzettino Però è vero Non mi ha lasciato praticamente niente Ma è che mio nome non l'avevo messa io Non si è spostata Ha perso magari un po' di colore qui Ma poi riproviamo No non si viene Cioè io comunque ho la bocca un po' sporca da prima Sì ma sono pulite Pensavo durasse Vabbè che il suo si è un po' schiarito Allora come tinta Non è bello Cioè però non mi piace il colore Ma se vedete proprio ci sono le pieghette Però come resistenza Approved Torpeso Le ultime due le fai te Io mi sono rotta di togliermene Ti piace questa idea Mi piace No 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 Vai 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 Togli togli Tagli tutto Lip lingerie Si chiama exotic Eh tu ditemi in mano allo specchio C'è la mia assistente No adesso devi fare livello pro Ah no no livello pro Che fa tutto da solo Questa puzza proprio Davvero Puzza Puzza C'è quello delle mie labbra Eh vabbè Ah perché di queste nigerie Non ho Non ci sono colori rossi Questa era l'unica più o meno Sul rossiccio Questa poi è dura Cioè il buono non mi piace Non ti piace Non le piace Riccardo make up artist Vai Però la testiamo Vediamo come funziona Vai Fai posta A me sinceramente ve lo dico Cioè io non mi trucco mai Però il nostro è il tuo fratello Non ti vergoggi? Si vergogna Perché? Perché di te Ma perché? Sei così carino Vaffanculo Ma non è carinissimo Sarà proprio dolcino Non ricordo dolcino No comunque Stavo dicendo che io non mi trucco Però boh Con fronte a quello di prima Era molto più secca Non si stendeva bene Ah Anche questa qui è resistito Cioè nel tuo è un po' bianchino tipo Si si è appena appena tolta qui Però tu non ce l'hai Io non ce l'ho Io alla fine le ultime sono le migliori Ma spero che io ti ho resistito così bene Cioè è diventata chiara Però non Non ho dato contato Non ha trasferito Ehi là Aiò Mi ha spaccare il comito Che go Questa è veramente Duro da togliere Vuol dire che è bella Cioè questo è l'ultimo del sacchetto È così imbevuto Perché c'ho il liquido in bocca Stai bevendo un po' di sapone Che schifo Che schifo Riccardo con la baba Tra cosa la fai? Fa schifissimo Ok ora andiamo a provare l'ultima Tinto Ovvero questa qua È l'olito di Kat Von D Il colore è Kat Von D Kat Von D Se non avete visto il video Che abbiamo già fatto insieme In cui lui mi trucca Vi lascio qua il link Così potete andare Così potete capire Che c'è Kat Von D Non Kat Von D Esatto I bei capelli Che proprio Belli capelli Belli capelli Poi mi li tocca ancora un po' Ecco brava La mia assistente mi sta Posso mandartela io? Dai metti la tua Vediamo la differenza Tra me e lui Io le labbra più piccole Le tue Ok Gliel'ho messa Ma sapete che Sulle sue labbra Tipo è disomogenea Cioè succedeva anche a me Però in realtà Stendersela in effetti È più semplice È per il semplice fatto che Conosci il labbra Esatto Quindi anche se fai più passate Ma lo fa anche chiusi Fa così Mentre sulle sue Che sono anche più piccole È più difficile Quindi visto che è difficile il compito Però comunque È asciugato Rispetto a come te l'hai rimesso da Sì vabbè ma tu lo fai da anni Cioè nel senso Povero piccoletto No non c'è asciugato Vi sta meglio questo colore vero? Gli dona Guarda ti voglio sempre vedere così Sì guarda Guarda che ti sta bene Non ti piace? Un sacco guarda Non ti piace? Due ore davanti al lavoro Da Prima Che venite Mi trovate con il rossetto Sono molto sassi Oltre al fatto che Tipo mentre la stavo mettendo Si è messo a parlare Ed è una cosa che Quanto Quando È carrabbiato È carrabbiato Ma è bello che Quando mi viene da ridere Poi tossisco Guarda come piange Quando truccavo le persone Lo facevano sempre È commossa Perché gli manca Il periodo in cui truccavo Verso Esatto E cioè tipo per tutto il trucco Stavano zitte Appena andavo a far la bocca Iniziavo a raccontarmi la loro vita Cioè tutto quanto Quindi proprio è una cosa psicologica Che appena si fa le labbra La gente parla Detto ciò possiamo baciarci E questo è l'ultimo Via Aia È pure Questa è top Cioè mi piace un sacco Si è solo tolta un po' La puntina qua Eh ma vi giuro No però questa No però questa Ma le ultime No Kat Von D mi stai simpatica È una bemmina Mi stai simpatica Kat Von D ti voglio conoscere Comunque no veramente Non vuoi conoscere Non vuoi conoscere Kat Von D Non si è a casa Non vuoi conoscere Così Vabbè comunque davvero promossa Mi è in testa un minuto agosto No no mi piace La schiferia Poi facciamo la chiusura No stai così Sei bellissimo Sei bello È una promossa Kat Von D Sì Kat Von D gli diamo un 9 Perché 10 non è 10 Ok 9 Bene Questa kiss me E non ti diamo un bacio d'addio No ciao Dopo questo bacio Era soltanto In realtà non stiamo insieme Era solo per il video Non è vero No non è vero E niente quindi Speriamo che vi sia piaciuto Ovviamente fatelo sapere Vale E condividete se vi è piaciuto Ok Niente Un bacione gigante Fateci sapere magari Se volete altri video insieme Infatti Noi due E niente Ok Ciao Ciao